Francesca Romana Saule si è giudicata al prestigioso riconoscimento di Manager Digitale dell'Anno all'edizione 2019 degli NC Digital Awards. Innanzitutto le chiediamo che cosa significa per lei questo premio? Beh sicuramente è un riconoscimento importante per un love brand come Illy, un brand italiano che sta esportando tutto quello che sta facendo di innovazione e di digitale a livello globale quindi stiamo veramente orgogliosi di poter portare ancora il nostro brand nell'epoca del digitale. Ecco a questo proposito le chiediamo come Illy ha cambiato la Digital Customer Experience negli ultimi anni? Abbiamo iniziato circa 18 mesi fa un progetto di trasformazione digitale, ci piace chiamarlo non digital transformation ma digital transformation quindi dal pensiero innovativo all'azione e diciamo attività concrete che portiamo avanti tutti i giorni con i vari team cross funzionali. Questo percorso sostanzialmente poggia su tre direttrici, il Go Digital quindi l'andare digitale, cercare di estendere quelli che sono i touch point, i punti di contatto con i nostri consumatori e clienti abbiamo lanciato un nuovo experience Driven Commerce dove abbiamo vinto un premio anche come miglior sito commerce abbiamo lanciato live chat, social caring, feedback, community management cercando veramente di raggiungere il consumatore in ogni sua forma di contatto con il brand. Poi c'è la seconda direttrice che è la B Digital, abbiamo cercato di lavorare moltissimo sulla trasformazione interna quindi sui prodotti, macchine connesse, artificial intelligence, voice assistant e siamo solamente all'inizio di un percorso che ha molte cose ancora da fare e la terza direttrice che è il B Disruptive, quindi cercando veramente di ripensare ai modelli di business lavorando con start up ed aprendoci anche a tutto quello che è il mondo dell'open innovation portando non più diciamo il prodotto ma neanche il consumatore al centro quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno è di lavorare sull'experience con il contenuto come King. Grazie anche a questo nuovo approccio e grazie alla collaborazione con Accenture che sta un po' aiutando il di Caffè nel suo percorso di trasformazione quali risultati avete già raggiunto? Con Accenture Interactive che è il nostro partner nella trasformazione digitale abbiamo attivato anche una serie di servizi sia in ambito social media dove abbiamo raggiunto più del 15% di reach quindi riuscendo anche a cavalcare quelli che sono i nuovi KPI delle strategie social per cui i brand vengono premiati oggi abbiamo attivato altri servizi a livello di SEO, STEM che hanno portato un fatturato importante a livello e-commerce, rimaniamo diciamo ancora a doppia cifra come cresci da anno su anno sull'e-commerce. Ringraziamo Francesca Romana Saule per Advia Express TV, Serena Piazzi.